I-ha ragazzi, bentornati e ben ritrovati sul mio canale, io sono Magnus Guardate rabbia com'è arrabbiato, vabbè lasciamo stare, andiamo avanti Perché mi mette un'angoscia Ok, questo l'abbiamo fatto, se non mi date male Dove? E' stai calmo Ok, andiamo avanti Lasciamo stare Vai Giulia, vai Niente di meglio di un po' di musica per aiutarci a rimettere a posto l'immaginazione di Riley Ok, vai Gioia Questo livello sembra tranquillo, ma non vorrei che sia... che sia... che fai Gioia Di qua non c'è niente, ok Quando sono così tranquilli mi preoccupo Ok, percusa Ok Ops, mi stava schiacciando il cranio Vai Ok, rompiamo La sotto I broccoli di venti E' decisamente divertente da dire Ma in realtà lì non ci arriviamo, eh no Ok, vabbè Andiamo da questa parte Questa canzone sarà fissa nella testa di Riley tutto il giorno domani E non saprà perché Ok, se utilizziamo questa può essere che qua ci portiamo su Ma anche no Ma Vabbè, forse evidentemente più in là riusciremo a capire come ci abbiamo Aspetta, ecco qua Ok Qua mi sa che Ok Allora aspetta, aspetta un po' Perché se Invece non azioniamo questo Ok, ma da là ci riesco però Ok Però non siamo andati là Aspetta Non fa bene a Riley Ah, 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 ah Fai il bravo Fai il bravo Sì, era proprio ciò che volevo Ah sì Ok E poi Prendiamo un po' Tutto Quasi azione questo Allora Sento un rumore un po' strano Ma sono Come che stanno facendo buzze? Però di no, eh Sennò poi arriva anche la buzza Vai Ok Perfetto Ma da là Non ci possiamo arrampicare Aspetta Ok, bravi Ma quanto gioia Quante agili gioia Aspetta Ok Ormai Ormai sono diventati pratici del salto Eh Eh sì Ormai ho capito come si fa a saltare E quindi non ce n'è più per nessuno Allora Vorrei fare lo spavaggio Allora Abbiamo azionato questo Tanto noi ce ne andiamo da su Eh Ecco Chiavolo Aspetta Brava Brava Che è successo? Aspetta Oddio Deve giù che c'è Gioia Aspetta Devo prendere il tempo perfettamente Eh sì Bello Però qua non c'è niente Non volevo dirti Non vorrei Sconvolgerti Ma C'erano quattro palloncini Luridi Schifosi Ok Vai Vai Da questa parte Ok Ecco vai Ma questo è un lancio Laser Non è un lancio Non è un lancio Non è un lancio Non è niente Ok Allora mi sa che abbiamo sbagliato A prendere Dobbiamo azionare Allora Aspetta Ecco qua Abbiamo Un lancio Ok da qua ci dovremmo Vai Ok Ok perfetto La direzione è quella giusta Ok Quindi da qui ci dovremmo riuscire Ah e no Aspetta Ma come fai a rampicare Non ci dovremmo riuscire Non ci dovremmo riuscire Oh Aspetta Ok Facciamoci più presto Ok E adesso possiamo anche scendere giù No Sì Aspetta No No Dov'è che Ora dobbiamo ripassare No Allora così lo blocchiamo Perfetto Solo che però qua Ci sta questo passaggio Qua che è blocchiato Vediamo un pochettino Se questo ce lo libera Aspetta Ok Quindi siamo liberi da qua Possiamo andare Vai Ah no Aspetta Vediamo Di qua che c'è E prendiamoci questi Quattro palloncini Sta festa Che chi la faccia Vai vai E vai Ah puoi scendere Non è Che devi percorrere Il tragitto Per venti minuti Vai Attenzione Attenzione Ok Allora Allora Uno l'abbiamo beccato Ah non ti arrampichi da qua Cavolo Non ce la fai Perché non ce la fai Ok Allora Scoppecchiamo un po' Anche i palloncini Ah eccola qua ce la facciamo Aspetta Con calma Ok Perfetto Aspetta Di qua Ando a scendere Ah no Ma non salta più da là Che cacchia Ma diamo proprio i numeri Così no Non credo proprio che ce la faccia Vabbè ok Rinuncio Andiamo avanti Ok Anche questo l'abbiamo preso Questo l'abbiamo capito Cosa abbiamo azionato Adesso Ho provato ad azionare così Poi vediamo Sì Andiamo avanti Ah ok perfetto Qui si si gira Tanto da qua Do arriviamo a salire Ah là c'è un ricordo E quello E' buono Attenzione Non è lì che vanno Quei ricordi Bisogna aver cura Di quelli Sono preziosi Eh infatti vai Gettalo qua Un segno speciale Sì Chi sia contento Eh gode Ok Ah l'abbiamo trasportato Lì sopra Quindi non è che Aspetta Aspetta Questo che fa Ah ok Da qua possiamo salire Questo è a tempo Vero? Sì 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 Aspetta Vai Aspetta Vai Eppa Porca Eh sì Cavoli Cavoli Di cavoli Aspetta Aspetta Eh sì Fantastico Che salto Fantastico Vai Gioia Ripeto Devi migliorare Nel salto Ripeto Scuola di salto Puoi contare su di me Ok Oh fantastico Ci verrà Lernia Vai Le cose che sto facendo Fanno la differenza Fantastico Oh c'è la pergamena Mi raccomando Non ce la dimentichiamo Sulla cosa poi Ah Abbiamo anche il ricordino Aspetta Fai la scorriggio Ok Vai Ok Scendiamo No Va bene Va bene Ok Se ne sei convinto Tu Aspetta Ok Ok Ah e qua c'è bisogno Di un ricordo Che non Ah eccolo qua Oh Acqua abbiamo Nuovo bozzetto Sforzato Che cosa è preso Ok Ma qua non credo Che ce la facciamo Eh sì Infatti Qualcosa non riesce Allora Se noi azioniamo Questo Sicuramente Lascia questo Usa questo Raccogli Raccogli Eh ma Aspetta Aspetta Questo Ti manderà Dritto Al tuo posto Ah sì No Non è andato Proprio dritto Al posto Non è andato Dritto Al posto Quindi Mi hai preso Poi il culo Bene Vai Allora Aspetta Che ce la facciamo Da qua Prima ce la fa Ok Ok Vai Che insegna Dentro Eh Puro a me Ok Ora possiamo Passare Non dirò Che non mi piace Perché in verità Mi piace E andiamo Questo dovrebbe S'ha andato un pochettino Meglio Cavolo Le pergamene Sono tre Porca miseria Vai Sette minuti Adoro se tutto va liscio Eh vabbè Non è che sia andato poi tanto liscio Eh Perfetto Ok ragazzi Nella testa di Riley Tutto il giorno domani E non saprà perché Eh vabbè Se lo dici tu Spero come sempre Questo video vi sia piaciuto Non vi dimenticate sempre di commentare Non vi dimenticate sempre di mettere mi piace Noi ci vediamo sempre al prossimo video E Bye bye